Dopo mesi di crisi, indiscrezione, ansie e speranze, i tifosi del Nardò possono tirare un grande sospiro di sollievo. Il club Granata, in seguito a quanto emerso all'ultimo Consiglio federale, è stato riammesso ufficialmente al campionato di Serie D. Decisive tra le varie cose anche le riammissioni in Cidi Gianerminio e Ravenna, oltre che alla promozione d'ufficio tra i pro del Nenniano al posto del Campo d'Arsegno. Che di fatto hanno spalancato le porte verso il successivo effetto domino. Grande soddisfazione è stata espressa da parte del presidente della formazione Neretina, che attraverso la propria pagina Facebook ha espresso tutta la sua gioia. Una vera e propria liberazione, si legge, per me e per i miei compagni di questa straordinaria esperienza, e che è la conduzione della Società Nardò. Più di tre mesi di sofferenze e veri tormenti profondi. Si parla di calcio e si parla di sport, certo, ma quando si lavora e si vive con passione autentica e senza risparmiarsi su nulla, beh, allora parlare in certi remi non deve sembrare affatto esagerato. Una grande soddisfazione che si somma a quella delle grottaglie, che grazie a questo domino di decisioni ritorna nel campionato di eccellenza. Grazie. Grazie. Grazie.